Un bel applauso per il nostro prossimo concorrente in gara, lui si chiama Lorenzo Favero, qui con noi. Anche Lorenzo l'abbiamo visto durante le precedenti selezioni al nostro concorso di Seven Live, dici tu cosa ci porti, mi dicevi prima due pezzi, vorremmo sapere qualche indicazione in più, i titoli dei pezzi che ci proponi questa sera. Sì, allora, il primo si chiama Game Show Rag Cannonball Rag, che è un pezzo di Mel Travis, un chitarrista americano degli anni 50, e invece il secondo è un pezzo mio che si chiama Sunny Trip, e l'ho composto dopo il primo concerto con i Sunny Boys. Benissimo, lasciamo il nostro palco per l'esibizione di questi due pezzi, del nostro Lorenzo Favero, i nostri in bocca al lupo e a loro... ... 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